Dicendo comunque voi andate, chiunque si deve recare in un'altra parte. ...e vedo già entra, vedo un 57... ...grandi! ...grandi all'Italia! ...ssh, ssh, giovani, giovani! ...però certo, tagliarsi le palle... ...diga, diga, arrivere! ...che? ...cambinare! 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 ...dicendo che adesso ti mostro... ...cioè che non è una capitale, perché se Milano si riempie di tigri, la Lombardia si riempie... ...perché se Milano si riempie di tigri, la Lombardia si riempie... ...ve ne dovete andare! ...ma perchè? ...ma se vedi che andate ve ne andate! ...ma perchè se ne dobbiamo andare? ...e bisogno ve ne andate! ...e non succo!